Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Un DLC che trovo assolutamente eccezionale ma come pochi altri io abbia visto nel mondo dei videogiochi e vi voglio un pochino parlare senza spoiler di quello che io penso riguardo questo titolo. Da parte mia ho una grande colpa, quella di aver fatto un video sullo stile emozionale come capita ogni tanto riguardo Cyberpunk quando uscì. Io ne parlai molto bene, al contrario di tutto il resto del mondo e vedete tutta la gente incollonata qua, io adesso vorrei andare avanti e accostare un po'. Ne parlai bene perché dissi è un mondo dove voi potete fare quello che volete ed è una città, Night City, che vi potete godere in ogni momento del giorno e della notte. Potete vedere la gente che vaga, gente che cammina per le strade, i criminali che sparano per le strade, gente che fugge, è vero. Ma io ho probabilmente presi questo gioco per come doveva essere rispetto magari alla maggior parte del mondo che lo viveva più come un GTA. Infatti i nodi vennero al pettine ed era un gioco che non era in grado di sostenere qualsiasi iniziativa del gioco, anzi ci reagiva molto male. Ho finito il gioco un anno fa, quando era stato già comunque ampiamente sistemato, e ho deciso di ricominciarlo adesso, che ho deciso di prendere, ci ho pensato parecchio, però poi ho deciso di prendere il DLC Phantom Liberty. L'ho pagato 30 euro e devo dirvi che li vale assolutamente tutti. Ci sono nuove missioni, c'è una nuova parte di città, la storia è qualcosa di semplicemente meraviglioso. Io sono anche, dirvi la verità, un pochino emozionato, sto cercando un posto dove parcheggiare, magari qua. No, c'è brutta gente. Sono emozionato perché è uno di quei finali, è uno di quei giochi che mi sono, mi rimarranno nel cuore. Veramente, io il finale del gioco base lo raggiunsi e ne fui contento. Ne fui contento perché mi soddisfaceva appieno. Il finale di questo DLC, che è anch'esso multiplo nel senso, il finale del DLC può finire in vari modi, ma se si fanno determinate scelte si può arrivare a una fine alternativa del gioco, che è quella che io ho fatto. È una fine emotivamente devastante, è un qualcosa che non mi aspettavo, che probabilmente nel profondo di me non volevo, ma che alla fine mi ha fatto pensare, mi ha detto, cavoli, ma c'è anche dietro un ragionamento, ci sta, è nell'evoluzione delle cose questa cosa che è successa, cioè ha un suo perché. E io ne sono assolutamente contento. Sono state aggiunte diverse cose, a parte la possibilità appunto di rivedere tutto quello che era il sistema Cyberware e dei talenti, è stato aggiunto il Relic come, diciamo, caratteristica in cui è possibile spendere punti. Il gioco è stato ampiamente revisionato, secondo me non era indispensabile, ma hanno messo anche la possibilità di sparare dall'auto, ma questo lo sapete sicuramente. C'erano degli YouTuber che parlavano di Cyberpunk dicendo, beh, Night City è una città dove tu non puoi diventare nessuno. Niente di più vero, ma probabilmente quell'affermazione era data come un difetto, ma secondo me non lo è. Perché? Perché voi non sarete mai, mai e poi mai, i capi, gli eroi di questa città. Potete diventare certo una leggenda a fine gioco, ma non è quello il punto. Voi sarete sempre comunque in pericolo all'interno della città, ma nulla vi vieta di spaziare con la fantasia e andare a comprarvi l'auto di vostri sogni, che magari potete acquistare adesso con la nuova aggiunta che è stata fatta nel gioco dal terminale delle auto, non solo via messaggio, che è abbastanza ridicolo. Vi comprate l'auto, l'auto vi costerà tot soldi e vi chiederà un tot di reputazione. Ci sono delle auto stupende di lusso che non sono ancora riuscito ad acquistare. Io mi sono preso questa, che in realtà non è nulla di che, però mi fa veramente figo, diciamo, girare su quest'auto. La storia del DLC è una storia di spionaggio, dove si capisce di più qual è la situazione mondiale nel corso del 2077. Ottimi colpi di scena. Il gioco non è esente da bug, ma la prima cosa che ho notato dopo aver finito Starfield e aver iniziato Cyberpunk è che ci sono di mezzo due filosofie completamente diverse nello sviluppo. Io ho amato entrambi, ma Cyberpunk, devo dire, mio malgrado, da fan di Bethesda, da suo estimatore, che Cyberpunk è diventato quello che sarebbe dovuto essere. È una rinascita che secondo me è sfavillante, come quella di No Man's Crime, anche se i contesti sono diversi. Il gioco a me gira va bene anche alla release, fine 2019, Cyberpunk, ma adesso è diventato un giocone. Dovete prima di tutto capire quello che voi cercate da un gioco, perché non è un GTA, non è un sandbox, è un gioco a missioni, dove la soddisfazione sta, risiede, nei potenziamenti che potete fare, nelle armi che potete prendere. Io avevo criticato Cyberpunk per una cosa, perché avevo preso il gioco dalla parte sbagliata, diciamo. L'avevo criticato perché io dissi che c'erano troppe armi, decisamente troppe armi, e ci si perdeva via. Ma perché? Perché io vedevo il gioco come una sorta di rigenerazione di una vita virtuale parallela, ma in realtà è un gioco di ruolo. Quindi ecco, poi vedete, i bug capitano comunque. Capitano ancora oggi, quindi il gioco non è esente da difetti. Poi ovvio, volete fare i critici? Criticate, e ci sta. A volte gli incidenti hanno comunque delle ripercussioni. Adesso qui sta succedendo il mondo, ma a me fa sorridere, insomma. Mamma mia questa qui, volevo prendere via, eh. Poi probabilmente questa cosa succedeva molto molto più spesso. Sì, qua sta succedendo di tutto perché è saltata per aria adesso. Però vedete, nel suo contesto ci sta quello che è successo. Perché siamo in una megalopoli, in un'epoca cyberpunk, dove comunque tu cammini per strada e sei un numero. Ti svegli al mattino e muori incendiato nella tua auto. Questa è Night City. Rivedetela sotto questo aspetto. Questa è Night City, più che un bug. E no, poi che altro dire? È un gioco che non mi ricordo più cosa sto dicendo, però dicevo da Stimatore, io ho trovato gli ambienti molto più ricchi, una sceneggiatura totalmente di un altro livello, le animazioni pure, il fatto che comunque tutti i dialoghi secondari e primari hanno comunque delle cazze intipiche di quello che era anche un gioco come The Witcher, dove comunque c'erano un sacco di orpelli grafici, dove c'erano un sacco di animazioni che non si potevano tagliare tranquillamente, ma ci sono che creano ambientazione, che creano immersività, immersione in quello che si sta facendo. Quindi io non posso che parlare bene e le prime parole che mi sono venute dopo aver finito il gioco, beh, le prime parole sono state una delle più grandi opere narrative che io abbia mai provato e che mi resterà assolutamente nel cuore. Non ero assolutamente intenzionato a ricominciare, ma il gioco per il DLC invece l'ho fatto, non me ne sono pentito. Ci sono state delle situazioni in cui di fronte a una quest che comunque sapevo poteva andare in vari modi, ero teso prima di un incontro come un thriller psicologico, un thriller poliziesco, prima di fare un interrogatorio, un colloquio con delle persone, ero teso, ero curioso, speravo di azzeccare la risposta giusta. E questo è meraviglioso perché vi dà quel giusto spessore, quella giusta narrativa che a tanti giochi manca. Quindi io, secondo me, se volete un parere mio, probabilmente ad oggi c'è ancora gente che dice io Cyberpunk non lo mando giù. In realtà se queste persone poi vanno dire The Witcher è stata l'opera prima, The Witcher è stata l'opera che è l'unica veramente dei CD project che vale la pena, ma anche a livello generale. Questa è un'opinione che io non condivido perché questo può diventare un gran... è già diventato, è un gran gioco e uno dei giochi che più mi è rimasto nel cuore emotivamente. Allora, possiamo dire che un GTA è molto più scanzonato, assolutamente. Ci sono molte più cose da fare in un GTA, certo, ma qua viviamo una realtà dove non c'è quella libertà di GTA di andare a fare tutte le mille attività secondarie. C'è una storia, ci sono tante missioni, ci sono gli hacking, c'è il potenziamento del personaggio, ma c'è tutto questo che voi state respirando di guardate intorno. Vedete queste pubblicità. Guardate i grattacieli, mi sono trovato a un certo punto su un grattacielo per una missione, guardavo giù, vedevo le macchine passare, ho visto il luogo dove io dovrei avere la casa, insomma. Immaginandomi sempre, ok, non è X4 dove ogni persona ha la sua routine, come su X4 Foundation dove ogni astronave ha la sua routine, la sua attività che sta andando a fare per la sua retribuzione, con la sua nave prodotta da quel... No, è immersivo, è vero, non c'entra niente, sono generati a caso, ma mi davano emozioni, perché io guardavo dall'alto la città che non dorme mai, la città che vive sia che io ci sia, sia che io non ci sia, la città che è sempre pronta a pugnalarmi alle spalle, in una città, in un ambiente dove chiunque qui può essere un potenziale pericolo. La città dove posso trovarmi al mattino imbloccato nel traffico per andare a fare una missione, così come posso andare nei deserti circostanti dove ci sono le tribù nomadi e posso andare a compiere qualche missione in qualche motel malfamato. C'è veramente di tutto? Vi dico, la verità giusto per completezza, io non ho mai toccato la creazione nel corso della mia avventura, si possono creare svariate cose, non le ho mai fatte, le posso fare ora, però non ho mai craftato armi. Io ho sempre farmato, ecco, rispetto alla prima volta che l'ho giocato e finito, un anno fa, ho farmato molto di più, nel senso che ho fatto molte più secondarie, la prima volta sono andato abbastanza dritto e che cosa è successo? Cioè io lutavo come un pazzo per poter vendere e farmi soldi, infatti sono arrivato ad avere fino a un totale di 350.000 eddi e con quelli vedrete che comprare certi potenziamenti costeranno anche 200.000 l'uno, quindi ci sta. Io voglio comprare un'auto di lusso adesso e quindi la cosa che potete vedere è che nella città sono stati aggiunti questi terminali qui, adesso non li trovo più perché so che ce n'era uno, adesso in città non mi ricordo, ma fuori città qua sotto c'è questo, poi ce ne sono anche, eccoli qua, terminale Autofixer dove è possibile acquistare dei veicoli. Ovvio, non succede quello che succede in GTA dove se girate con l'auto di lusso tutti vi dicono wow che bella quando non ci sono tutte queste finezze. È un gioco diverso, è un gioco che vi prende più per mano nel corso della storia. E vi dico la trama di Phantom Liberty è più bella della trama base, assolutamente. Mi fa piacere che abbiano ritirato in mezzo comunque anche Johnny Silverhand e Kenny Reeves nel doppiaggio dei nuovi pezzi, insomma, è tutto in italiano fatto a regola d'arte, ma anche Idris Elba, il nuovo companion che noi avremo, è un personaggio estremamente carismatico per cui io mi sono trovato ad empatizzare tantissimo. E io alcune scelte di dialogo fondamentali, soprattutto verso il finale, le ho fatte grazie all'empatia che mi suscitava quel personaggio, dalle sue espressioni, dal suo passato, dalle cose che mi aveva raccontato, dalle cose che ho preso grazie ai miei dialoghi. Per quanto riguarda le armi non mi hanno fatto impazzire, vi dico la verità, ho apprezzato più quelle di Starfield, quello vi dico la verità. Tuttavia sono belle anche queste ed è possibile poi andare anche a vederle da vicino, zoomandole e moddandole, quindi è possibile poi andare a vederle. Adesso non ho modo di, forse nello zaino, dovrei poter vedere le armi, come ad esempio questa pistola qui. Questa pistola qui a me piace tantissimo perché è anche un ricordo, è stato un regalo di un personaggio in gioco ed è una pistola che io non venderò perché ci sono affezionato, fa parte della storia, così come anche altre armi che vi verranno regalate o che lutterete a certi boss che ucciderete. Ragazzi, io volevo solo parlare a ruota libera di questo gioco, giusto per dirvi se siete nel dubbio, se prenderlo o meno e siete capitati per caso su questo video, il mio consiglio è assolutissimamente sì. Dopodiché godetevelo con i vostri tempi, esplorando tutto, lutando tutto, godendovelo senza correre. Perché? Perché io ormai ho iniziato il gioco una volta quando è uscito, la seconda volta quando poi un anno fa l'ho finito e l'ho iniziato la terza volta adesso. L'ho iniziato con tre, tutti e tre gli inizi disponibili, quindi sia nomade che corporativo che l'altro da abitante di Night City, sono tutti belli, tutti molto belli gli inizi e mi sono fatto una cultura su quella che è la lore di Cyberpunk, che se vedete che salto in alto perché è un potenziamento. Quindi voi che magari lo dovete ancora iniziare e non avete tutte queste conoscenze, vi consiglio di leggervi tutti i documenti che trovate in giro, vi fa tutto lore. Ascoltate i dialoghi, sentite due passanti che parlano, fate missioni secondarie, ma soprattutto leggete i documenti, apprenderete tantissime cose importanti. Ragazzi, spero di avervi fatto una cosa gradita, avervi parlato di questo titolo, di questo Cyberpunk 2077 e del suo, del sì, la sua espansione Phantom Liberty, in modo magari un po' diverso da quello che si fanno di solito normalmente i creatori di contenuti online, attendo trepidante i vostri pareri qua sotto sul parere. Se l'avete finito ovviamente me ne parlerete considerando anche questo rispetto a quello che ho detto. Se invece magari state approcciando il gioco, ditemi che impressione vi ha dato, secondo la mia descrizione, se siete magari intenzionati ad acquistarlo oppure no. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.